La Guardia di Finanza di Caltanissetta ha scoperto una truffa per indebita percezione del bonus cultura 18 app e denunciato il titolare di una nota società del Nisseno operante nel settore del commercio degli apparecchi elettronici. Secondo le indagini, l'esercente avrebbe comunicato falsamente al MIC la rivendita dei libri, biglietti di teatro, cinema, cedendo invece beni da lui commercializzati come cellulari, videogiochi e computer, non contemplati nelle categorie ammesse al beneficio. Sanzionati per l'illecito utilizzo del bonus cultura 360 fruitori, tutti residenti nella provincia Nisseno e in quelle limitrofe per oltre 160.000 euro.